Il Lirio Coridoc Bianco. Il nome del vino fa riferimento a una località del nostro territorio dove si coltiva vite da millenni. Viene raccolto nei primi giorni di settembre, vinificato in bianco, resta in acciaio per 6-8 mesi in affinamento, dopodiché viene messo in bottiglia. Questo vino ha un blend di tre vitigni, Bellone, Greco e Malvasia Pontinata. Il blend dei tre vitigni ne fanno un vino più complesso, più articolato rispetto ai monovitigni. Il colore è giallo paierino intenso, con riflessi anche verdognoli, profumo fragante, florale, molto lungo e molto complesso. Abbiniamolo con antipasti, pesce e nello specifico andrebbero benissimo seppi e calamari. Grazie a tutti.